ma uno è qua dietro raga da me ok uno resti di me sono entrambi da me qua è una loba blocco la porta arrivederci sono poste voi dietro l'audio è una magia lascio questo era una sopra qua la montagna se non l'ho visto male uno mi ha visto probabilmente si 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 andando via ma non l'ho mai va bene ma faccio dire stucato non riesci ora la casa c'è io era attaccata l'horizon le ho le spalle manca l'ultima è da me si è salita è davanti a me in casa si ti giro la bomba anche se si muore oh mio ai dio mio cioè io climb il personaggio inizia a scivolare muoio stuccato mentre scivolo cioè io tu da un lato io dall'altro stavo per morire pure io pensa un po' ehi quel drop ah certo ma certo ma certo guard sei ma certo quello che ti consiglio accompagnarli magari a degli allenamenti con un aim trainer ho fatto anche il video per la mira secondo me se tu unisci la guida definitiva sì l'ho visto bene è caduto 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 è una lifeline over a lifeline over a lifeline no sense quello che ha fatto no se lo merita che c'è il teammate che c'è il rifle guarda spero adesso in quella del anche di io prendo spazio a questi me la sento così vai 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 anche io gli entrao dietro eccommitatemi no no parlavo a loro parlavo agli avversari forse lo fa arrivo da sotto secondo che mi si ricarica il jetpack e li salgo ci siete io ora salgo mi guarda di già uno mi sta già guardando eh ci sono niente io devo essere cursato da sto tizio che ce va con me sto salendo vai vai salite 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 guarda 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 i due sono due scannati uno sta venendo da noi uno sta venendo da noi no mi ha visto a me no a me no a me no a me no aspetta aspetta che a me non mi ha visto uno è sceso uno è sceso nel middle credo no uno è scusa inizio uno è scusa inizio uno è scusa inizio uno è scusa inizio un po' angolo ok fugge fuggi fuggi poteva avanzare staccato Ok holdiamo che ora devono venire Stando via Forse va al cult Giro da mox un attimo Oh wait sono del ballon quelli che va al cult Cioè la gente ha il ballon fuori safe Più questi Ci vuole troppo Crackata 33 Ok l'ho distrutta Wow Vado vado a prenderli Mori di safe Stonk Ma li stanno sparando o sbaglio Può essere può essere Arrivando L'hanno uccisa l'hanno ucciso riprendi dietro riprendi dietro riprendi dietro è meglio 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 Non facciamo voyeur Via Eh sangucci Non vedo nessuno Però di base 60 Addizione glitch È una Great Great 60 Crackati 101 Aspetta 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 Non ingaggiare Sendo come prima troviamo gente dietro ma non vedo nessuno pier crackato 10 flash 20 flash nessuno gli ha preso la carrozza noi avanti ci fu la volta siamo se vogliono continuano a uscire questi se la sento la porta bella riesce a confermare vorrei che l'altra squadra si allargasse di qua non sta arrestando newcastle si sono allargati si l'ha fatto l'ha fatto tutti tutti mi hanno preso il tetto non so se sei restabile io mi sono pure dovuto andare via dal tetto occhio che la metto proprio bella si deve essere proprio bella voglio che non ha Watson che lo stanno facendo? che lo stanno aspettando questo? ok sotto li ho stragrippati ultimo team ultimo team ultimo team ultimo team non abbiamo questo è un problema che l'idea proprio nulla 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 niente con colpa devo tirare un pugno che rischio sono cacciato è uno speaking blind con il fondo con te arrivo con te andiamo uno in chiata con me metti a fare un metodo solo 1 ancora dentro casa ancora dentro casa ancora dentro casa da me 1v1 1v1 20-20 oro oh 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 porca miseria mi sono spaventato sono vicini albercrafter ha un HP è vicinissimo ma il clippato arrivederci buccio buccio questi non devono scappare fuori in fuga fuori in fuga verso la rampa pollo in fughissima addio ho visto uno dietro il beacon si accade in strada si baitano si baitano si baitano bing bing questi cosa fanno volano dal palloncino non ce li facciamo andare si si qua questi volano oltre li spacchiamo e si volano in testa magari ci volano oltre e li che nocchiamo la valk in volo e via è fatta ci sono fe eccoli 30 eh per cazzo arriva breve ho messo c'è un chiuso qua li sto tenendo li sto tenendo devo fightare il team sotto cioè dopo questi qua a sinistra secondo me il migliore dentro e destra così qua sotto così qua sotto full raidiamo e droppiamo sotto sono pronto anche perché li vedi sta facendo con mossa quando vuoi posso dare 3 2 1 vado cavolo bellissimi danni darei 1 HP riuscite a restarmi con un golden mi swinga mi swinga mi tiro una battuta bella devo start restarmi venite vabbè smetto 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 dobbiamo andare a sinistra nelle rocce c'è uno che è sceso c'è uno che è sceso da top c'è uno che è sceso da top ok questo è da cavolare posso farlo io gioca sugli swap gioca sugli swap te sharp vai sono qua sono qua ho due arc per cuore sto facendo andare avanti lascia lì lascia lì appena livano ho tre arc star più una frag da tirare fingo la porta così vediamo quando aprono bella che hai vissuto il gen bombardo con la Q colmato uno flash l'altro cliccato uno bella bella mi prendo angolo 170 occhio mox potrebbero pusharmi per indietro la watson è molto vicina sono molto vicini tranquillo 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 sto restruggendo va vai mettermi dietro arrivederci il caustica è uno rigioco sugli swap adesso occhio mox ce le due dietro c'è una battery è fatta bella bella ggg e via è un'ennesima win l'ennesima win l'ennesima win forse si è lontano quello con l'arco non ho l'arma secondaria io prendiamoci il big building proviamo a giocarcelo prenderò la hellstar che devo fare hanno venuto a confermare allarghiamoci verso nord ce la fai? si no 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 vabbè questo è qua stare qua abbiamo anche il big game ah si è buono quindi stiamo sul tetto finché non vengono su e poi ci droppiamo giù si stanno pushando 53 flash lascia la lascia la 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 il gig sta accanto eh nemico capo eh che la porca miseria così avessi anche solo il tempo da perdere per sta roba andai a prenderlo intanto vai vai lascia mi fa hs e muoio tipo ancora qua non sto restando non sto facendo niente eh l'avrete tipo qua vieni dentro vieni dentro casa vieni dentro casa non puoi restare cioè se tu resti come tranquillo aprila ok vai ora ti cazzo mi sembra anche che ha solo lo sniper mi sembra anche a me che è così no era buono scusami mi fregati vabbè ce l'hai si ha arrestato anche loro non ne siamo anche sentiti in infinix se vuoi se volete fightare potete andare a fare solo la build la sto già andando hanno tirato 2.000 di ricordi non ne ho detto sono andati nell'altra sono ma dove vanno uno diner uno diner da solo con te mox è uno solo eh è solo l'octane adesso arrivo anch'io mi copro da top eh non vedo è the lead uno è sul tetto è l'octane staccato l'octane ti push a mox ti posso coprire un'altra squadra con il charge rifle da trials possiamo andare dobbiamo combattuto prima ah ok stiamo fightando andiamo dove abbiamo fightato prima raga si si c'è un altro team a trials andiamo dove abbiamo fightato prima si stanno avvicinando si si sono da sotto io ti lo batte arrivo da voi sono in quella casa lì ancora almeno la valk non l'ho pingata bene la valk si si vicino intanto il gb è lì in open il gb è lì in open c'è un head glitch più o meno carino c'è quel side eh c'è raccato c'è raccata la valk c'è raccato anche l'octane oh c'è un mastiff occhio c'è un mastiff il gb ti pushano ti pushano ti pushano sto pullando c'è un hp sopra l'octane entro in casa sono in casa sono in casa sono in casa sto tirando la water giocato in casa gioca in casa resettiamo i nix ci sono vieni casa sharp tre secondi sono due vicini non lontano col charge pronto quando volete ha usato pure bolla si 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 non so se sharp e sciacchera a crossare no io non conosco io non conosco bella 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 gli abbiamo buttati ticanti in casa scendiamo questa scendiamo questa brutto ripeto il tp anzi no dai dietro 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 dai sotto sotto i bonti seria entrambi su di mazza ho preso il tp l'ho ucciso traccato siamo 1v1 ho ripreso il tp io per errore mannaggia a me vabbè adesso andiamo si si arrivo adesso eccomi scusi permesso dietro dietro vabbè che giro stava c'è il mio seduzzo e vai su maldizione ah la cam non l'ho più messa no e da quando è che non c'è la cam d'ha fatto tanta penne da mangiare dove va l'amico si dai è subito qua attaccata a me attaccata a me fuori piano terra attaccata a me sono tutti e due qua a terra andiamo vabbè perfetto bravi vado il top vado il top quello non so dove sia l'horizon dove è andata oh mi ha fatto il giro mi ha fatto il giro mi ha fatto il giro io non posso scrivere se anch'io devo curarmi scendi giù mox e puoi ah una capi è scesa è scesa non posso ah ce l'hai davanti scelta mi sto fullando mi stai da fresco eh oh è entrato ce la facciamo ce la facciamo a posto può anche non stai a pressare se vuoi non si sa mai ok questo è un giro un giro sul ponte c'è un glid il missere è tirato una ulti ma è scappato via dietro abbiamo distinto pure il mondo è questa c'era bisogno ma continuano eh via andiamo c'è nessuno che tiene la posizione migliore della mappa va bene c'è un package c'è un package c'è una volta che si arriva prendo si vola che eroi senta che vola o che potrebbe rubarci vediamo cosa fanno senti avvicino da me c'è un tunnel vedo dove le varie da qua mi sa breve perché spara tutto il mondo risano una red si vieni back vieni back probabilmente ci fightano guardano l'altro side stanno fightando là dentro intanto però mi sa che se quelli li ingaggiano dobbiamo guardarli si ah gli ho fatto 80 flash raga io qua sto tenendo dei faggiani che vogliono provare a venire volerà non possono volare questi sono obbligati a venire da me qua abbiamo delle free kill tra poco free kill non possono volare perché non c'hanno horizon ok non hanno la val ecco lì stanno per arrivare 84 l'horizon stanno a sinistra stanno al lato di sharp è horizon seer watson sono horizon seer watson sono non li vedo sono dietro perfetto ha uno scudo d'oro provo a finirla vabbè intanto muore di safe è fuori safe sono fuori safe anche lì quindi è fatto occhio solo al charge al charge ci vuole te no non dirmelo devo giocare dentro da me è giocabile sono un po' noiosi questi stanno prendendo spazio stanno prendendo spazio 40 alla valk dietro io prendo spazio sul ponte ma sto charge rifle la smette? è mezzo a nulla tra l'altro a te voi 20 alla valk vieni con me appena ci sei mi ha black la battery vieni con me appena ci sei dimmi che è scegno Ho rubato un flatline Sì ho rubato un flatline Ci sono Abbiamo due Possiamo andare a fare full ape Quando volete Vogliamo giocare sotto? Sono due squadre Sono entrambe top Secondo me è giocabile Uno è silos, uno è silos, uno dentro Sono uno è silos, uno dentro Se ci chiamo sotto abbiamo la ziplè Venite, venite Sì, sono noccati Sono noccati Hanno finito Andiamo, andiamo, andiamo Last fight Devo tirare la battery L'altro è tolto a 60 Allo octane Batteryzzo Che botta che mi ha dato Ci sono Vado, Mastiffo Ho 98 Noccato L'ultimo 14 flash È morto è morto Allora Siamo a 1200 punti fatti Via Nonché record della season Di vittorie consecutive direi Quota 3 win di fila Via 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 Let's go I got big dreams just like baby